Come ampiamente anticipato in sede di presentazione del nuovo preparatore atletico Marco Sist, la New Basket Brindisi comunica il programma precampionato. Il reduno, come noto, è fissato per il prossimo 17 agosto e nei due giorni successivi i giocatori saranno sottoposti alle visite mediche. Il ritiro nella città di Cisternino, quindi a pochi chilometri da Brindisi, è previsto dal 20 al 30 agosto per poi rientrare a Brindisi e proseguire gli allenamenti all'interno del palazzetto dello sport Elio Pentassuglia, intervallati dalla partecipazione a tre tornei previsti per il 3-4 settembre con il Memorial Cezza a Trani insieme a squadre come Barcellona, Ostuni e Ruvo. Il 10 e 11 settembre la partecipazione della New Basket Brindisi al torneo Mangano-Lamanna a Scafati insieme a squadre come Barcellona, Scafati e Sant'Antimo e si chiude col terzo torneo il 17-18 settembre con il città di Lecce a Lecce con Avellino, Caserta e Barcellona. La città di Brindisi si prepara inoltre a quello che sarà il derby pugliese negli ottavi di finale della Coppa Italia di Lega 2 quando la New Basket Brindisi affronterà a Lassi e Ostuni con gare di andata e ritorno. Con la nuova formula della Coppa Italia in caso di parità varrà la differenza dei canestri. Entrambe le gare saranno giocate al palazzetto dello sport Elio Pentassuglia a causa della non omologazione del palazzetto dello sport di Ostuni in attesa che vengano ultimati i lavori in questo senso. Mercoledì 21 settembre Lassi e Ostuni risulterà come squadra che gioca in casa mentre domenica 25 settembre a fare gli onori di casa sarà la New Basket Brindisi. Il campionato di Lega 2 avrà inizio il 2 ottobre. Il calendario completo della Lega 2 sarà reso noto mercoledì 10 agosto.